ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi un nuovo prodotto power meter avevamo già conosciuto l'home edition e green edition quindi per monitorare i consumi di casa in tempo reale monofase o per monitorare la produzione del fotovoltaico monofase in tempo reale sottolineo in tempo reale perché le app degli inverter non sono mai in tempo reale se non avete visto questi video ve li lascio in descrizione ma adesso parliamo del prodotto di oggi perché nei video nei commenti mi avevate chiesto spesso una versione per leggere i consumi trifase e adesso ce l'abbiamo si chiama power meter business edition loro producono poi altre versioni ma questa è quella diciamo commerciale per chi per chi ha una casa trifase perché adesso con i 110 eccetera molte case sono state convertite al trifase alcune lo erano già o semplicemente attività commerciali o piccole aziende dove abbiamo l'esigenza di monitorare i consumi complessivi o di determinate zone perché vi farò poi vedere che il dispositivo si installa montando tre pinze sulle tre fasi ma non devono per forza essere le tre fasi del generale di magari un quadro elettrico con 30 sezionatori in cascata potete ad esempio montarlo per monitorare solo i consumi di alcune zone della vostra azienda o semplicemente vi farò vedere come ho fatto io montando la monte del generale avete un'idea precisa di cosa sta consumando l'impianto e anche di come sono distribuiti i carichi sulle tre fasi per avere un impianto bilanciato ma prima di far vedere il prodotto vi faccio fare una carrellata nel sito per darvi un'idea dei prodotti che hanno adesso a catalogo perché da quando sono nati come startup adesso hanno aggiunto diversi prodotti dunque sul sito power meter nella sezione prodotti troviamo tutto il catalogo ad oggi disponibile home edition che avevamo già provato in monofase ma attenzione perché è disponibile anche in trifase e sarà esattamente il prodotto che vedremo oggi nel video ma limitato a 18 kilowatt massimo di lettura avremo il pro che è esattamente la stessa versione ma con l'aggiunta del tablet poi avremo il green edition la versione per leggere la produzione degli impianti fotovoltaici versione monofase che avevamo già recensito che viene ampliata con la lettura fino a 23 kilowatt e anche col trifase quindi fino a 18 kilowatt qui abbiamo anche un'opzione importante perché a volte su impianti trifase vengono montati tre inverter monofase quindi abbiamo la possibilità di avere un green edition che fa la lettura con tre linee monofase la versione pro è sempre quella con l'aggiunta del tablet poi arriviamo al prodotto di oggi che il business il business cosa cambia da un home edition che legge il trifase semplicemente i kilowatt perché abbiamo qui la possibilità di arrivare al massimo a 23 kilowatt mentre sul business arriviamo fino a 69 kilowatt in versione con pinze piccole pinze grosse che vedremo dopo è in versione business pro quindi col tablet che sarà quella oggetto della recensione di oggi abbiamo poi la vendita del tablet singolo o smart kit che include l'home più il green edition in versione combo per avere i consumi la produzione e l'autoconsumo in tempo reale a un prezzo più vantaggioso su tutti gli acquisti tranne le versioni pro con tablet applicando il coupon sconto dato di tutto maiuscolo avete un risparmio netto di 20 euro ora vediamo che pacco vi arriva quando ordinato il prodotto e andiamo avanti con l'installazione tutto quanto ok vi arriva una scatola come al solito con la striscia di garanzia mi raccomando se trovate danni eccetera ritirate il pacco con riserva dentro troviamo il solito imballo molto curato con sacchetti di bolle d'aria protettivi qui vedete subito una novità che è lo stand in stampa 3d disegnato e realizzato da loro che danno insieme al prodotto per tenere il tablet troviamo poi una serie di accessori scatola power meter accessori che saranno le tre pinze che vedremo nel dettaglio dopo troviamo il nostro power meter e il tablet dunque le tre pinze perché parliamo appunto di un prodotto trifase che sono da 100 ampere per questa misura di cavo attenzione contrassegnate come fase 1 fase 2 fase 3 stessa cosa sul cavo tutti i contrassegnati f1 f2 f3 perché ogni pinza avrà la sua posizione questo lo guardiamo meglio tra un po e poi cosa abbiamo un tablet per monitorare costantemente in tempo reale i dati del consumo che potrete appendere a parete comprando un accessorio a parte o mettere sul tavolo usando lo stand in dotazione parliamo di un tablet che non è concepito per fare cose particolari ma è comunque di qualità perché parliamo di un samsung un galaxy della serie tab un a7 light niente di incredibile ma comunque viene dato un prodotto di qualità affidabile il modello preciso lsm t220 grigio con 32 giga prodotto che viene già aperto perché viene già testato e viene installata all'app proprietaria di power meter ma rimane a tutti gli effetti un tablet che potete usare anche per fare altre operazioni vedete che viene personalizzato power meter mentre si avvia nella confezione trovate la dotazione standard che viene data con il terminale troveremo quindi il pin per l'apertura del carrellino cavo usb type a con connessore type c è incluso anche con questo tablet l'alimentatore tablet che arriva pronto per l'utilizzo già inizializzato con all'interno l'applicazione power meter viene installata anche un'applicazione per gestire l'orientamento che rimanga bloccato e viene installata anche un'applicazione che serve per tenere lo schermo sempre acceso dopodiché c'è un play store c'è tutto quello che vi serve per fare anche altri utilizzi avremo quindi la possibilità una volta aperta l'applicazione di utilizzare pratico stand in dotazione per avere sempre sotto controllo i consumi mettiamo un attimo da parte il tablet e ci concentriamo sullo power meter business edition compatibile con android e apple questa è la nuova confezione nei video precedenti avevamo visto ancora le confezioni di vecchia concezione non appena aperta troviamo il manuale di istruzioni stampato in italiano perché vi ricordo che è un'azienda con sede in italia tutto made in italy non c'è nulla di cinese e troviamo poi i due diciamo protagonisti questo è la parte dove entriamo con i tre jack dei tre meter a batterie che dialoga con la ricevente che viene a sua volta connessa al wifi e alimentata con alimentatore in dotazione alimentatore in dotazione che questo è sì comprato dalla cina ma viene scelto un alimentatore di qualità e comunque un 5 volt da un ampere qui che cosa troviamo troviamo semplicemente le batterie per alimentare il trasmettitore e qui abbiamo un qr code da inquadrare per installare l'energy manager possiamo scannerizzare il qr code o usare questo link oltre alle batterie troviamo anche un velcro doppio di qualità 3m dual lock per fissare il trasmettitore con l'ingresso delle tre fasi dentro un eventuale quadro o cabina dove installiamo i misuratori soffermiamoci un secondo sulle istruzioni del business che come al solito sono curate dettagliate con chiare figure con tutto ben spiegato noi dovremmo semplicemente mettere le tre pinze intorno alle tre fasi chiaramente per fare un'installazione del genere su un prodotto business è consigliabile soprattutto se dovete aprire un quadro al quale non è dato l'accesso se non al professionista di turno chiamare eventualmente il vostro elettricista ma vi farò vedere che comunque togliendo corrente per sicurezza dal contatore quindi togliendo corrente ovunque non è assolutamente difficile installare questo dispositivo anche in un negozio o una piccola industria un qualsiasi posto si abbia bisogno di monitorare il consumo trifase come funziona il prodotto semplicemente bisogna aprire le due stilo prendiamo il trasmettitore che è quello nero che dovremmo semplicemente aprire con questo movimento e alimentare con le due stilo in dotazione ogni prodotto vi faccio notare che viene marchiato con un serial number perché sanno esattamente a chi hanno spedito questo seriale di prodotto per eventualmente bisogno di assistenza o garanzie eccetera dopo l'acquisto quindi l'azienda sa sempre che prodotto abbiamo andato di quale lotto di produzione eccetera eccetera poi ci sarà la parte ricevente del segnale radio che viene mandato da questo dispositivo alimentata da rete quali distanze dobbiamo rispettare tra il trasmettitore e il ricevitore raccomandano poi chiaramente dipende dalla struttura da eventuali ostacoli eccetera comunque la distanza dovrebbe essere di circa 10 metri ovviamente la ricevente deve essere in una zona coperta da wifi perfetto ora facciamo la prima configurazione installiamo le batterie nel trasmettitore quindi non potete sbagliare lato della molla negativo il trasmettitore vedete che lampeggia è alimentato a questo punto diamo corrente al ricevitore che poi quello che si connette al wifi wifi lampeggiante è da configurare apriamo l'app power meter perfetto dobbiamo configurare il power meter assicurarsi che led verde wifi ok sulla scala grigia stia lampeggiando dobbiamo collegarci alla rete che è stata generata wifi dall'hotspot del trasmettitore quindi andiamo nel wifi vedete che abbiamo power meter setup la selezioniamo torniamo all'app power meter configura ora ok lui ha trovato due reti wifi in questo caso si sono uguali perché una è un extender mi connetto a quella più potente e metto la password di rete vado avanti premo attiva informazioni salvate correttamente accedi per vedere i tuoi consumi in tempo reale quindi se non lo fai in automatico ci riconnettiamo alla rete sulla quale abbiamo l'accesso a internet torniamo all'applicazione possiamo premere vai ora qui facciamo la registrazione di un nuovo account o ne usiamo uno già nostro io in questo caso ovviamente ho già un account faccio l'accesso e vedete che abbiamo il power meter versione business trifase con le tre fasi che ovviamente adesso non sta leggendo nulla perché dobbiamo ancora montare le pinze e avendo un account con altri dispositivi riesco anche a spostarmi andare a monitorare il fotovoltaico che in questo momento non è in produzione o andare ad esempio sul mio home edition che in questo momento sta consumando 259 watt passiamo alla fase di installazione delle tre pinze dei 3 ta sopra al generale nel quadro elettrico tornando a parlare della dimensione delle pinze sono pinze da 100 ampere con cavo massimo fino a 13 mm di diametro esterno ma in fase di acquisto potete scegliere anche la versione con cavo fino a 24 mm è sempre da 100 ampere se avete dei cavi molto grossi potete scegliere un'opzione tre di queste pinze con un sovrapprezzo di 15 euro questo kit business riesce a leggere impianti con forniture fino a 69 kilowatt trifase indipendentemente dal tipo di pinza che usate è una questione di sezione di cavo perché chiaramente se il cavo è troppo grosso questa pinza non riesce a prenderlo correttamente prendiamo quindi le tre pinze fase 1 fase 2 fase 3 tiriamo giù la corrente io in questo caso tiro giù il contatore trifase della mia attività e vi faccio vedere come installare fisicamente le pinze e il trasmettitore bene per prima cosa smontiamo il quadro rimuoviamo le protezioni per avere accesso alla zona dove vogliamo mettere i ta i meter le pinze che leggono il consumo le posizioniamo una per ogni fase vedendo che sia montata bene e che riesca a prendere correttamente il cavo io in questo caso poi mi sono portato i tre pezzi di cavo con il jack fuori dal quadro per posizionare il trasmettitore in esterno connettiamo i tre jack e l'installazione è finita ok fino a ritrovarvi in una condizione del genere con i tre ta che prendono le tre fasi intorno guardate che siano ben chiusi che faccia lo scatto questa levetta laterale e con l'installazione abbiamo finito chiudiamo al quadro e siamo a posto ok giusto per farvi capire questo è il quadro elettrico dove ho installato il trasmettitore il locale commerciale è questo adesso mi faccio due passi per farvi capire la ricevente connessa al wifi l'avevo messa nel mio negozio in fondo e siamo a circa 25 metri non prendeva quindi ho dovuto mettere il trasmettitore proprio sotto il quadro in modo che sia un metro dal trasmettitore che è poi la sopra ovviamente segnale wifi copre tutta l'attività commerciale ma in questo caso ricevitore trasmettitore non riuscivano a dialogare una volta messo in funzione il tutto nell'app poi potete dare un nome all'impianto che state monitorando impostare la fornitura quindi quello che avete come potere contrattuale del vostro contatore del fornitore e potete anche impostare una soglia oltre alla quale vi arriverà la notifica l'avviso di superamento consumo e poi è presto detto perché appena lo installate vedete che come nel mio caso ho visto che consumando 5 kilowatt li avevo tutti su una fase perché quando sono state installate delle pompe di calore per il riscaldamento erano state messe tutte sulla stessa linea quindi sono intervenuto nel caso fate intervenire il vostro installatore elettricista e ho distribuito i carichi in modo eco quindi la stessa condizione di consumo vedete che adesso ce l'ho bilanciata sulle tre fasi questo è molto importante una volta sistemato diciamo verificato eventuali anomalie di distribuzione delle fasi vi trovate in una condizione con il vostro tablet sulla scrivania o potete tranquillamente usare lo smartphone all'occorrenza dove avete in tempo reale i consumi distribuiti sulle tre fasi è una cosa molto utile vi aiuta a tenere sotto controllo il tutto qui finisce la parte visiva in tempo reale di quello che sta succedendo ovviamente dentro l'app avete tutti i controlli dello storico dei consumi avete dei grafici tutto quello che vi può servire per avere un'idea da quando avete installato il dispositivo ma quello che è il valore aggiunto è l'energy manager l'energy manager è un file excel che vi viene inviato con una password dopo l'acquisto collegando questo file excel al vostro account avrete accesso a una marea di informazioni che adesso vi faccio vedere una volta fatto l'accesso vi troverete a dover configurare due o tre parametri per impostare il costo dell'energia nella scheda strumenti avrete poi accesso alla scheda potenza ed energia dove avrete la possibilità di scegliere il periodo del quale aggiornare i dati mettendo semplicemente il vostro account premendo il bottone aggiornadati verrà scaricato tutto il log di quello che ha misurato e avrete quindi la potenza massima il giorno di picco le massime potenze sulle singole fasi tutta una serie di valori numerici e anche grafici delle potenze totali e sulle singole fasi avrete qui tutto lo storico giorno per giorno ora per ora dei consumi totali e divisi per le tre fasi spostandovi poi qui sotto dalla scheda potenza la scheda energia facendo l'aggiornamento dati avrete anche qui una tabella con tutti i wattora consumati giorno per giorno totali e divisi per le singole fasi questo ovviamente per la gestione dei conti e dei costi è uno strumento molto molto importante bene siamo giunti a fine video un prodotto che troverete qui nel negozio ma attenzione non faccio il video perché vendo il prodotto vendo il prodotto perché ho fatto il video questo per spiegare che quello che decido di vendere nel mio negozio lo porto perché mi fido perché l'ho testato e so cosa do ai miei clienti clienti che sono come i miei spettatori di youtube perché quando consiglio un prodotto lo consiglio perché funziona io ho già spiegato in altri video che non faccio contratti non accetto sponsorizzazioni cerco di dire sempre quello che penso obiettivamente quindi se vi consiglio un prodotto se lo vendo in negozio è perché mi è piaciuto se vi trovate a passare di qua troverete il business pro con il tablet sempre qui montato e funzionante da vedere da testare da toccare con mano poi come vedete là sopra una discreta disponibilità delle versioni home green sempre in casa quindi potete comprarlo dal sito potete comprarlo qui da me come prezzo non cambia nulla mi raccomando se comprate sul sito usate lo sconto d'attoli per avere 20 euro in meno non sulla gamma pro ossia quelli col tablet perché non ci starebbero dentro con le spese non ci starebbero dentro con le spese voi direte però il prodotto costa caro costa caro perché vale quei soldi costa quei soldi tutto fatto in italia da azienda italiana insomma non sto a raccontarvi la rava e la fava dei costi in italia tutto quanto però prodotto qui non è come produrre in cina prodotto che tra l'altro può anche essere messo in detrazione per risparmio energetico nel caso contattate l'azienda o chiedete informazioni a me un prodotto che comunque vi aiuterà tantissimo nel controllo dei consumi soprattutto in un contesto trifase dove avete tutto lo storico con l'energy manager il foglio excel delle giornate i kilowattora consumati insomma tutto ben dettagliato rimane lì non viene perso potete stamparlo potete modificarlo scaricarlo inviarlo potete fare quello che vi pare ed è un valore aggiunto molto molto importante mi raccomando se non siete iscritti o se pensate di essere iscritti controllate perché youtube a volte toglie qualche iscrizione o altrimenti pigiate qua sotto che non costa nulla ma a me dareste una gran mano a far crescere il canale con questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima diretta al prossimo video o se passate in provincia di torino potete venire a trovarmi qui in negozio grazie ciao da massidattoli grazie a tutti grazie a tutti